Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video, ormai forse un mese e più fa il tempo passa ho pubblicato un video che riguardava le scuole che consigliavo per chi è interessato a interprendere la carriera di compositore per il cinema e oggi sono felice di annunciarvi il nuovo corso del centro sperimentale di cinematografia, il nuovo corso del 2017 ne parlavo in maniera ipotetica in un precedente video in riferimento alle passate edizioni del corso adesso sono qui per parlarvi nello specifico del corso di questa edizione che inizierà a luglio lo faccio in questo momento anche se un po' in ritardo perché abbiamo iniziato a pubblicizzare il corso qualche giorno fa perché innanzitutto c'è una novità particolare quest'anno perché per chi si iscrive al corso per tempo oggi è l'8 giugno, chi si iscrive entro l'11 giugno quindi in veramente poco tempo ha uno sconto enorme che è di 300 euro che è uno sconto importante su tutta la retta. Il sito del corso è quello che vedete qua sopra è csclab.it slash lab slash musica trattino al centro film poi vi linko come sempre il sito oltre alla mail che è la seguente allora csclab chiocciola fondazione csc.it poi c'è anche un numero di telefoni un numero di telefono scusate trovate in questo sito molte delle informazioni molte altre le potete richiedere via mail e il sito verrà aggiornato con tutto il programma non minuto per minuto ma nei suoi dettagli maggiori vi spiego come è stato pensato perché quest'anno ho avuto la fortuna di essere stato coinvolto nella parte organizzativa nel coordinamento del corso insieme al professor Sergio Bassetti allora abbiamo innanzitutto una serie di incontri con compositori molto importanti del panorama italiano il corso c'è nel mese di luglio dal 10 al 14 la prima settimana la seconda settimana dal 24 al 28 e poi c'è un'ultima settimana che sarà in settembre mi sembra partire dall'11 settembre e che sarà una settimana dedicata alle registrazioni ci sono tante cose a dire cerco di condensarle nel minore tempo possibile allora la prima settimana vede gli incontri con diversi compositori tra i quali il premio Oscar Nicola Piovani che farà un bel incontro proprio il primissimo giorno di lezione e tutti gli incontri con i compositori prevederanno una parte di feedback ovvero i partecipanti potranno fare ascoltare questi importanti maestri la propria musica e ricevere consigli in generale pareri su cosa va bene, cosa andrebbe corretto cosa si potrebbe fare meglio insomma tutti i consigli che un compositore esperto ci può dare quindi primo giorno abbiamo Nicola Piovani poi abbiamo Paolo Bonvino che lo stesso fa una lezione specifica e ascolterà i brani dei studenti abbiamo una lezione con un compositore che a me piace molto perché è un caso particolare nel cinema italiano per il modo in cui tratta la colonna sonora e soprattutto la strumentazione è Teo Teardo che lo stesso terrà un corso parlerà della sua esperienza darà consigli e ascoltere i lavori dei ragazzi poi abbiamo il direttore artistico del corso di quest'anno che è Pivio e che terrà ben quattro lezioni dedicate non solo all'ascolto del materiale degli studenti ma anche e soprattutto a tutto quello che riguarda la base del mestiere dalla spotting session al rapporto con i registi con i fonici di mix con il music editor tutto quello che riguarda la professione del compositore insomma sono tutti musicisti che hanno una grandissima esperienza molti anni e anche molti premi importanti alle spalle quindi sapranno darvi i consigli maggiori per quanto riguarda proprio il mestiere della composizione e ognuno di questi compositori sono stati scelti e chiamati perché occupano un ambito particolare all'interno della musica da film in Italia uno più specializzato in un modo di interpretare la colonna sonora e uno in un altro quindi abbiamo un panorama molto vasto poi abbiamo delle lezioni teorico-pratiche una con un pomeriggio con Andrea Grant che sarà dedicato all'orchestrazione dalla virtuale all'orchestrazione reale abbiamo due lezioni due pomeriggi di lavoro con Ciro Caravano che si occuperà della scrittura a quattro parti della musica e della scrittura per quartetto d'archi questo perché nell'ultima settimana e questa è una cosa importante la novità di questo corso che nell'ultima settimana verranno registrati i lavori scritti dai partecipanti verrà fornito dalla scuola un quartetto d'archi uno studio di registrazione una sala mix un tecnico e i partecipanti potranno dirigere questo quartetto d'archi su musiche che ovviamente hanno scritto loro durante il corso e con lo schermo dietro come faceva una volta John tutt'ora fa come tutt'ora fa John Williams potranno dirigere il quartetto d'archi mentre le immagini del cortometraggio che loro andranno a musicare scorrono sul grande schermo quindi un'opportunità grandissima per registrare una struttura che è lo stato dell'arte in questo senso il corso non finisce qui perché poi ci sono tutta un'altra serie di incontri molto importante con professionisti del settore ad esempio abbiamo un incontro a cui parteciperò poi anch'io che riguarda il cinema e le serie di animazioni quindi tutto un pomeriggio dedicato alla musica per cartoni animati sia le serie sia i film e per varie fasce di età quindi i cartoni animati tipo quelli che passano Raio Io insomma i cartoni animati per i più grandi e fino a i cartoni animati che hanno temi molto più adulti molto più diciamo seriosi quindi non dedicati ai bambini e ai ragazzi quindi un pomeriggio dedicato tutta l'animazione abbiamo poi le lezioni di Sergio Bassetti che sono per me tra le più importanti tra quelle che ci saranno nel corso perché io stesso le ho frequentate posso dirvi che il suo punto di vista mi ha cambiato in meglio in positivo ha cambiato il mio approccio alla alla composizione e al modo di interpretare il film perché ricordiamoci che questo corso è un corso che si fa in una scuola di cinema quindi la componente cinematografica è molto molto importante la componente riguardante la teoria cinematografica poi abbiamo un incontro con con Amelio quindi con un importante regista italiano che lo stesso ascolterà e darà consigli ai giovani compositori abbiamo incontri con i registi che studiano attualmente al centro sperimentale e questa sarà una cosa preziosissima perché è probabile che si possano instaurare dei rapporti di collaborazione di amicizia e lavorativi futuri tra i compositori che partecipano al corso e i nuovi registi quindi una mattinata sarà dedicata all'incontro con i registi del centro sperimentale di cinematografia quindi è una cosa molto molto importante un'occasione da non perdere poi abbiamo un corso di un paio d'ore che farà Franco Fracastoro che è il product specialist della Steinberg e parlerà di Cubase e del nuovo software di notazione musicale Dorico è una lezione da non perdere anche perché mentre tutte le altre lezioni sono dedicate solo esclusivamente a chi partecipa al laboratorio questa lezione della Steinberg per la prima volta è una cosa un'altra novità di quest'anno sarà aperta a tutte chiunque voglia partecipare a questa lezione può farlo basta inviare una mail che poi vi linko nella descrizione del sito ma comunque è csclab chioccio alla fondazione csc.it quindi potete partecipare tutti a questo incontro è la prima volta che viene presentato Dorico a Roma quindi un'occasione da non perdere sto dando un'occhiata al programma per vedere se dimentico qualcosa sono talmente tante che qualcosa dimenticherò sicuramente abbiamo un incontro con un music supervisor un tecnico mix e un montatore quindi abbiamo tre incontri diversi con queste figure professionali con i quali poi il compositore si trova a collaborare a lavorare a discutere e a creare in fase di post produzione quindi questo corso ha un aspetto molto pratico perché spesso ci si trova non so dopo tanti corsi a sapere scrivere benissimo e poi nella pratica quando si trova a relazionarci con registi oppure con questi tecnici ci troviamo in difficoltà perché è una cosa che non abbiamo mai fatto ci verrà dato durante questo corso quindi il punto di vista sulle colonne sonore dei tecnici specializzati che poi ci daranno anche dei consigli per arrivare al meglio in fase di post produzione ci sarà una piccola parte dedicata all'utilizzo base di Pro Tools cosa che ci consentirà poi di preparare i premissaggi da inviare poi al tecnico che si recupera del suono finale e dimenticavo qualcosa probabilmente stavo semplicemente dimenticando uno dei ospiti principali del corso che è Michael Magill sto sulla sua pagina IMDB e guardate quali film ha lavorato Mad Max The Equalizer Il pianeta e le scimmie Amazing Spider-Man 2 Le Team Il Cavaliero Scuro una serie di film infiniti la mummia insomma grandissimo blockbuster lui è un sound editor incredibile bravissimo e abbiamo avremo un incontro nella seconda settimana di corso con questo grandissimo professionista che ci darà anche il suo punto di vista sul tutto quello che riguarda il suono il sound editing e cose che servono comunque a noi compositore sono importantissime quindi per quest'anno abbiamo anche questa novità questo ospite internazionale molto importante vi linko il 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 sito come come detto poi ah una cosa importante sì ci sono delle esercitazioni tra una settimana di corso e l'altro quindi dovrete realizzare delle musiche per dei cortometraggi il secondo cortometraggi dei quali verrà poi registrato con un quartetto d'archi quindi avrete anche del materiale poi da far sentire registrato con degli strumenti veri materiale da far sentire poi registri e utilizzare come demo penso che adesso la panoramica ci sia più o meno più o meno tutta insomma è un corso di tre settimane di lezione a Roma quindi al centro sperimentale le prime due sono lezioni frontali teorico pratiche la terza settimana e verranno registrati tutti i lavori dei partecipanti sarà una settimana all'altra c'è questo lavoro da fare da realizzare a casa e verrete comunque seguiti a distanza da dei tutor mentre registrerete questi lavori insomma quindi poi anche mentre siete a casa non verrete abbandonati ma avrete dei insegnanti che vi seguiranno passo passo quindi che dire è un'occasione ghiottissima sono contento di essere stato coinvolto in questo progetto perché ho potuto dire la mia e consigliare il centro sperimentale dicendo sarebbe il caso di mettere questa materia sarebbe il caso di invitare quest'ospite perché altri corsi in Italia non hanno semplicemente questa varietà questi approfondimenti dal punto di vista soprattutto professionale queste public relations che poi vanno a crearsi insomma sperando che siano durature quindi un corso davvero eccezionale vi consiglio di iscrivervi e mandare una mail immediatamente perché entro l'undici avete uno sconto di 300 euro sulla retta e assolutamente non è poco quindi chiedete informazioni alle mail che vi ho dato ultimi dettagli ultime cose da dire beh vabbè li potete avere tutti tramite tramite mail ah ecco l'iscrizione come viene fatta semplicemente alla mail che vi ho dato come poi leggerete nel sito mandate un curriculum vite e due mp3 di due lavori che avete realizzato non devono essere per forza colonne sonore che sono finite in cortometaggio un film musiche pensate come fossero delle colonne sonore delle ipotetiche colonne sonore verrà valutato il vostro materiale il curriculum vite e soprattutto la musica e poi insomma se la commissione riterrà la vostra iscrizione valida poi potrete procedere a formalizzare tutto quanto insomma molti mi hanno chiesto quali sono i prerequisiti per partecipare a questo corso in realtà nessuno ovvero se richiede una conoscenza minima dei argomenti di cui andiamo a parlare è una passione per questo tipo di lavoro è un corso dedicato molto professionale quindi dedicato sia a chi già fa questo lavoro e io quando frequentai questo corso anni fa già facevo colonne sonore e ciò nonostante ho avuto mille miglioramenti grazie alla frequenza a questo corso ma ho dedicato anche a chi sta iniziando dedicato a tutti i tipi di musicisti dal compositore che si è appena diplomato in composizione in conservatorio al compositore che invece si occupa solo di musica elettronica a quello che si occupa di musica jazz nel corso degli anni tutti i tipi di compositori sono passati per questo corso e erano comunque tutti allo stesso livello perché non si tratta di un corso solo di composizione perché poi ci sono anche lezioni che si parleranno di dettagli di composizione è un corso molto più ampio un laboratorio di musica per film quindi una cosa ben diversa è un'occasione veramente unica in Italia ripeto luglio 2017 il centro sperimentale di Roma che tra l'altro è un posto bellissimo un luogo storico per il cinema italiano proprio di fronte a Cinecittà che poi vi consiglio di andare a visitare quindi approfittatene perché è il modo migliore per spendere un paio di settimane anzi tre settimane quest'estate ciao a tutti grazie grazie grazie